è identico sta azzurro infatti comunque ho perso la strada cosa dovrei fare adesso? chiedere indicazioni scusi! no non scappi non si faccia a prendere la mano sono solo geneticamente modificato e non so guidare vabbè a parte ma quali sono dei dettagli signore dove va? ci passo? non so dai ripagherò guarda un liquido rossastro non è sangue vuole prendere il controllo sbanda integrità alveare? oh che palle devo eliminare un alveare palle? qual è un alveare? è presente quella edificio enorme rosso che abbiamo visto qualche minuto fa? beh quello attenzione guida lui ragazzo voglio la mano so che prima e precedente in New York era italiano davvero? com'è che si chiamava? non me lo ricordo però era italiano eccolo alveare? esatto voilà oddio eccolo che era quel simpatico amichetto di cui ho ammazzato gli amici oddio sta venendo bene patapam tra sangue e polvere da sparo tra sangue e polvere da sparo ah semplice devi entrare ora con il caro armato esatto io scherzavo no oddio la finisci con quel pupazzo mi dico il campo no merda uccidi o semi nei militari ma la prima opzione mi piace di più dove siete? ah eccovi deficienti sto su un caro armato non per via bene adesso è uscito ah che simpatici ma statele a casa appunto vedete che è una guerra che non potete vincere non la combattete nemmeno no? che cazzo è quella cosa? cosa? non lo so sto mirando da mezz'ora ma non esplode ah no non è niente dicevamo dov'è che devi andare? boh già che ci sono facciamo un put on true che col caro armato a posto della macchina senti bellissima quanto prendi e mi ha fatto il caro armato è l'ultima frontiera eccolo eppure lui quella bassa che cazzo vabbè tanto lui è l'uomo di cui nessuno prende il coraggio per uccidere e muori stronzo dopo tre ore dopo che abbiamo lanciato tutto l'arsenale del caro armato eccellente eccellente che ci sono ancora eh minchia che palle sono come delle formiche contro una mano gigante oh la tua la mia no oh finalmente dov'è calzare parker? parker dovrebbe essere quella cosa celeste sulla macchina oddio sta arrivando lui oddio sta arrivando oddio sta arrivando susan no per dire c'è una guerra c'è una guerra tra zombie e marine e stanno ancora con i cittadini a quanto pare si che vuoi sono sadomasi mi piace soffrire mi piace farsi stuprare da zombie buh come devi iniziare poi senta la ragazza help me come Ashley maledetta adesso diventerà tutto verde vero? certo no aspetta come entri nella zona blu? ah non l'ho fatta apposta attenzione pirati della strada perchè sulla mappa c'è una zona blu una zona normale? perchè quella blu è comandata dai militari quella zona rossa è coinfettata dagli zombie presente si la zona bianca è la zona di cazzo no? esatto dove non c'è nessuno che comanda tranne me ah siamo arrivati ragazzi toglietevi ragazzi io li ho avvisati nooo perchè il caronato sprigiona cose bianche? non lo so forse perchè è rotto o è delle frecce tricolori oppure perchè ha furia di guidarlo forse non sa guidare credo adesso devi parcheggiare certo in versione AU guarda mi hai segnato Agard credo potrebbe essere il camion sauro rex chi lo sa mmm può darsi può darsi di nuovo eccomi finalmente no quel bel murales bene saltiamo ste stranzate e quindi finisce non lo so vediamo giusto il ricordo principale che è ancora più confuso degli altri ricordi normali credo che fossimo noi due crede lui crede complimenti eh delle siringhe dei virus patogeni che vuol dire patogeni? comunque ah ed ecco il portachiali oh quella di Dain si 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 pazzo psicopatico per perfetto va bene d'accordo quindi finisce qua questo gameplay della EA Sports di Prototype quindi un ciao da Vale93BAR e buona notte alla prossima